Grazie a tutti Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro grande sito newpestv.it Oggi vi parlerò di, come sempre, un bellissimo film È difficile parlarne perché questo è stato veramente una cosa eccezionale Basta che funziona Di Woody Allen, è una commedia stratosferica Lo so, sono tutti stratosferici per me, ma è vero Questo poi me lo sono goduto in un modo eccezionale Anche perché assomiglio un po' al protagonista Boris si chiama, un cervello Ma non perché c'è il cervello, perché è un gran bastardo La pensa in un modo fantastico, anarchico, come me Bene, ma al di là di questo poi c'è anche un'altra cosa divertente Per lo meno per me È che spesso io dicevo, mi ha sentito la mia mamma Quando si parla tra amici, tra tutti, di discussione Ma se, ma se, alla fine lei usciva fuori sempre Ma se la mia nonna Valerota era un carretto È ripetuta in questo film Che gazzata Comunque, ve lo leggo Quello che c'è scritto Nella foderina del DVD Perché, guardiamo un po' se si inquadra bene Quasi ci siamo Perché è un riassunto Che è molto difficile fare riassunti E questo mi è piaciuto tanto E praticamente mi piace più quello che c'è scritto Che quello che dico io Ve lo leggo Boris, ex professore universitario di fisica Trascorre le giornate con gli amici Lamentandosi di tutto e di tutti Una sera, mentre sta per rientrare nel suo appartamento Viene avvicinato da una ragazza Che gli chiede ospitalità per la notte Boris accetta E nonostante la differenza dietro Tra la ragazza e lui La ragazza ben presto si innamora di lui L'arrivo, prima della madre E poi del padre e della ragazza Darà vita a una serie di divertenti situazioni Dagli esiti imprevedibili Che condurrà tutti i protagonisti A cambiare profondamente la loro vita È qualcosa di bello Ve l'ho già detto E poi c'è un sistema Il protagonista Boris Ogni tanto si ferma L'audio E lui si rivolge Agli spettatori Dicendo alcune cose E quindi anche questa Avvicinarsi di lui A te che guardi Rimani nato Cioè parla a me Guardate ragazzi Stasera me lo riguardo L'ho già guardato tre volte Ho fatto tutti gli appunti Alla fine era così pieno di cose Che vabbè Ho fatto la presentazione Leggendo poco bene Quello che c'è stato Quel riassuntino Che ho appena letto Insomma Beh guardatelo ragazzi Perché è veramente una canzata E se volete Vi annuncio il prossimo film Don Juan Maestro d'amore Una cosa Anche questa Da sogno Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima